Mi sa che finalmente siamo arrivati a round 29, ma per un po' la gente deve andare a casa, io non so se finirà Attivare? No, che cazzo? Vabbè, attivato io, vai bene tranquillo Ci penso io, ci sono dei trasporti Prima attivano il teletrasporto, poi matureranno l'ultimo zone Ma prima muovesti con lo stacchetto Ma cosa fate con il tuo zone? Ma non vuoi, ma non vuoi Ma ecco, lo zombie che verrà ammazzato E attenzione Round 29, ecco i più potenti dei nostri eroi Vieni qua, vieni qua Che pommosi! Che diventa un cordocchio Vieni nel teletrasporto, vieni nel teletrasporto Vieni nel teletrasporto Metterai mai sul teletrasporto E uno potenzierà, l'altro no E chi è? E ci sa chi è? Ma è tempo che potenzierà E quello che non potenzierà è questo idiota di Michele Vieni nel teletrasporto Vieni nel teletrasporto Questa è un'arma buona almeno Sì, è buona Ma vediamo l'ocidatore Eccolo, eccolo Ci si sente? Bella gente